Ciao a tutti, oggi vi presento un bel libro su Fabrizio De Andrè, non è il primo che presento su Fabrizio e non so se sarà l'ultimo, ma indubbiamente li scelgo, io ne ho letti diversi, li scelgo augurandomi che possano essere graditi, perché questo ha come sottotitolo Le storie dietro le canzoni, è un libro di questo tipo e credo che da un lato in qualche modo possa pagare la curiosità anche di un fan, mettiamola così, e al tempo stesso ci fornisce però dei dati, degli aneddoti, anche delle cose che sono un po' più serie, che stanno appunto dietro le canzoni. Tanto per cominciare, sfogliandolo, l'editore Giunti, vi faccio vedere bene la copertina, sfogliandolo capiamo che De Andrè, in riferimento ad altri cantautori, è un po' diverso rispetto al fatto che lui ha collaborato molto spesso con altri, Bubola piuttosto che Iannacci anche, Via del Campo, la musica è di Iannacci. Mentre invece Guccini, il nostro Giampiero Aloisio, le canzoni sono sue, testo suo e musica sua, in pochissimi casi non è così, mentre invece con De Andrè direi che emerge, perché dietro ogni canzone c'è scritto, chi ha scritto testo e musica, vedremo che le canzoni scritte interamente da De Andrè non sono tante, non sono tante, non le ho contate ma non sono tante. E poi ogni canzone appunto viene spiegata un po', per cui per esempio Giordi, una canzone molto bella, del primo De Andrè, se non addirittura del primissimo, è tratta dall'elaborazione di un'area scozzese del XVI secolo. E l'avvicinamento di De Andrè a musiche folkloristiche, anche inglesi, non è stato l'unico esempio Giordi, ci sono anche altri esempi. E poi per esempio la vicenda di, viene raccontata un po' la storia della canzone Carlo Martello, che inizialmente De Andrè quando la scrisse aveva pensato a Carlo Magno, ma Paolo Villaggio con cui De Andrè si vedeva spesso perché erano appunto quelli del Giro della Foce che hanno dato origine alla canzone d'autore, alla scuola genovese, gli suggerì Carlo Martello di ritorno dalla battaglia di Poitiers, che è un evento storico che per alcuni aspetti, per quello che sarà poi l'Europa, era a giudizio di Paolo Villaggio più pregnante. E poi hanno scritto il testo in maniera indubbiamente molto ironica, ecco chiaramente. Poi ci sono alcune canzoni, sempre del primo De Andrè, che, e la cosa non è un esempio unico, sono state subito censurate dallo Stato italiano, ma non dalla Radio Vaticana, che addirittura scrisse, ovviamente delle persone adatte a questo tipo di mansioni, scrisse una lettera a Fabrizio De Andrè dicendo che ben volentieri avrebbero fatto ascoltare alla Radio alcune canzoni che erano state tutte censurate dallo Stato italiano. E questo successe anche con Die è morto, perché di Guccini, che cantarono i nomadi al Cantagiro, venne censurata dallo Stato italiano, ma non dal Vaticano. Ecco, quindi ci sono un po' insomma tutte queste storie, poi il pescatore, se il pescatore è stato ammazzato, no, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, il concetto di le storie dietro le canzoni mi sembra un'espressione felice e che ci fa capire un po' meglio la canzone, ma soprattutto l'ambientazione, chiamiamola così storica, in cui la canzone è nata. Buona lettura. Grazie.